Settima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione di calcio gironea con l'attesa sfida in trasferta per l'audacia Ceglignola contro il Canosa. Si tratta del quarto confronto tra le due formazioni dopo le tre vittorie o pantine nei sedicesimi di Coppa Italia ed all'andata di campionato. Una macchia di alta classifica nonché anche per l'audacia Ceglignola di confermare sempre di più la leadership del torneo. Il Canosa con 33 punti e con 9 vittorie, 6 pareggi e 6 scompite occupa la quarta posizione. L'1-0 subito dalla Rutiglianese ha fermato a 4 i risultati consecutivi per la formazione canosina. Tra l'altro nonostante i rinforzi maggiori per l'allenatore nel mercato di riparazione stanno comunque confermando il loro buon momento. Il fischio d'inizio alle 15 con direzione arbitrale affidata a Capriolo di Bari. Grazie.